Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziario di Canale 81 e andiamo a vedere le notizie del giorno. Ha investito un uomo su uno scooter e poi è scappato senza soccorrere. La vittima dell'incidente è Enzo Sirignano, 51 anni, impiegato in un supermercato della zona. È stato trasportato al policlinico Umberto I ma nonostante le cure è morto poco dopo. I vigili urbani hanno rintracciato il pirata della strada, un italiano di 49 anni di Tor Vergata e l'hanno denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Vediamo ora le notizie da Fiumicino, una valigia con 2000 euro in contanti e una taglia sulla testa per terrorismo islamico. I poliziotti della Dicosl hanno fermato un uomo ieri mattina prima che prendesse il treno che dall'aeroporto di Fiumicino conduce sino a Roma. Il 32enne, originario del Tajikistan, era appena sceso da un volo proveniente dall'Olanda. Si indaga per capire la ragione del suo arrivo nella capitale, se potesse contare su una rete di giadisti su cui fare affidamento. Quindi le indagini continuano serratissime. Vediamo ruspe all'ex Centroal Italia di Muratella. Dopo 15 anni arrivano le ruspe nazionali nella zona. Nell'area del municipio undicesimo sorgerà un quartiere residenziale green. Le operazioni per l'abbattimento dureranno circa 18 mesi. Il palazzo del municipio che custodisce anche un simulatore di volo è inutilizzato da 15 anni. Il progetto per il rilancio prevede anche la costruzione di una scuola oltre che di 320 alloggi sociali. E vediamo la novità in campo di cultura. Tutti i giovani di Roma che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2024 potranno entrare gratuitamente per un anno nel sistema museale di Roma Capitale. La giunta capitolina ha infatti approvato una delibera con la quale si è deciso di regalare a tutti coloro che sono residenti a Roma e che compiono 18 anni questo anno la Roma Mic Card, Roma del Ministero della Cultura. La carta che consente di entrare gratuitamente in tutti i musei nelle aree arcologiche e monumentali gestite dalla sovrintendenza capitolina e beni culturali e che permette anche di ottenere agevolazioni e sconti presso mostre, caffetterie e librerie museali. E ora vediamo il grande cinema che da Hollywood all'Italia a Roma. Un giro per le strade della capitale e qualche photo opportunity con vista sui tetti per l'attrice americana Zendaya. a Roma per la prima italiana di Challengers. Nuovo film di Luca Guadagnino che la vede protagonista insieme a Joshua Connor e Mike Feist. E con questa notizia concludiamo il nostro notiziario. Come sempre grazie per essere stati con noi e vi rimando ai prossimi appuntamenti.